Commissariamento per il circolo di battipaglia del Partito Democratico. La decisione è stata presa dalla Federazione Provinciale, che ha preso atto della mancata convocazione del Congresso Cittadino e della conseguente decadenza del segretario uscente Davide Bruno. Il commissario scelto dal coordinatore provinciale Vincenzo Luciano è Luca Sgroia, ex presidente del Consiglio Comunale di Eboli e presidente dell'azienda sperimentale in Prosta.